A base gioielli quest'anno festeggia il trentesimo anniversario della sua fondazione, sebbene io e il mio fratello proveniamo da una tradizione familiare iniziata da nostro padre nel 1957. Le idee in merito al design e delle nuove collezioni oppure l'integrazione delle collezioni esistenti vengono messe in opera da una squadra appassionata di esperti collaboratori. In ogni manifestazione Masi Gioielli introduce sempre nuove collezioni e nuovi modelli. Per questa fiera di Vicenza gennaio 2018 abbiamo presentato la collezione Mamba che si caratterizza in particolare per la sinuosità del bracciale e dell'anello che si adattano perfettamente al dito e al polso delle signore. La collezione è completata dagli orecchini in parura. Masi Gioielli per il futuro intende intensificare le relazioni con i partner sia tecnologici che commerciali e soprattutto cercare di penetrare maggiormente nei mercati che l'hanno sempre vista come riferimento e esplorare nuovi mercati. Grazie a tutti! Grazie a tutti!